Il dato è quello che è, è sotto gli occhi di tutti, ma noi adesso aspetteremo anche per le prossime amministrative, perché abbiamo comuni importanti come Sarno, come Nocera Superiore, e quindi penso che anche lì dovremmo cercare di avere un buon risultato. Con la vittoria di Aliberti, diciamo che si apre uno scenario diverso per quanto riguarda Forza Italia, anche perché io ho chiesto a Pasquale di darci una mano per quanto riguarda il partito in provincia di Salerno, perché io sarò occupata per le prossime europee, dove spero che Salerno possa regalare effettivamente un risultato ampio, sia a Forza Italia e sia alla mia persona, ma nello stesso tempo comunque che possa veramente far sì che altri consiglieri, persone e quant'altro possano effettivamente rientrare in quella che è Forza Italia. L'europarlamentare di Forza Italia, PP e coordinatrice del Partito Azzurro in provincia di Salerno, Lucia Vuolo, parla della lungimiranza e della coesione di un partito che sta dimostrando sui territori una forte determinazione. Il successo del sindaco Pasquale Aliberti a Scafati è un nuovo inizio, segna infatti già il futuro di programmazione e progettualità da Scafati, ma anche verso altre città, tenendo conto delle priorità e delle urgenze dei territori, ma soprattutto dei progetti. Si guarda infatti a Sarno e a Nocera Superiore con le amministrative del 2024 e si guarda all'Europa. Il comprensor infatti ha bisogno di uscire dalle micro realtà e guardare proprio oltre, lo si può fare proprio in sinergia istituzionale. Noi attendiamo semplicemente che ci siano comunque questi tavoli di centrodestra proprio per iniziare a poter mettere nomi eccellenti e quindi a cercare di far sì che si possa scegliere il sindaco migliore per la città che andrà ad elezione. Pasquale Aliberti è stato scelto con forza da Forza Italia, scusatemi le parole, ma perché Pasquale Aliberti è Forza Italia e questo ce lo possiamo dire. Il coordinamento provinciale ha fatto un buon lavoro, lo ha fatto anche per quando riguarda Ponte Cagnano che non ne abbiamo parlato. Comunque Forza Italia ha preso un risultato del 9,2% risultando il primo partito su Ponte Cagnano e mentre su Scafati Forza Italia ha avuto il 19,33% ed è il risultato più alto rispetto a quella che è l'Italia. Quindi il partito sta crescendo, noi stiamo lavorando affinché si possano avere i risultati su tutta la provincia di Salerno anche nelle prossime competizioni di un risultato a due cifre.